Dov'è Chiara? Ah, qua non c'è Chiara! Chiara! Chiara è così incazzato Ok, molto bene, cominciamo Sì, ma io volevo sapere che cazzo era successo Allora, le scommesse, si vede che ma fuori di far scommesse che andrà più il figlio O gli è nato un figlio Lele Cosa è successo al suo amico? Praticamente c'era un gruppo di scommesse e c'era questo elemento che si faceva chiamare Natale c'era questo nickname Perché a Natale faceva i regali ai nipotini con i soldi delle scommesse Questo è tutto cari telespettatori, grazie per aver seguito Studio Aperto Ci vediamo alla prossima puntata E campo largo su Antonio Olivieri Fireball Chi è lui? The Long Ranger Italia Uno! Istituto Bravante No, Branca Branca Perché guarda attraverso l'obiettivo e non attraverso la realtà Perché l'obiettivo sui miei occhi è la mia anima Toccante E qua c'è l'aria Lazzarri No, il nostro vetro c'è 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 Fatti a vestire veloce Ecco, ecco E come tutti gli altri Finirai nel carrozzone Scusa Lontano E io voglio vedere questo lontano No Allora faccio fare anche la fata di Armando Armando, faccia un attimo la fata C'era una volta un re No C'era una volta un pezzo di legno No C'era una volta un pezzo di legno C'era una volta tanti pezzi di legno Ma non di legno di legno